Sarà lunga 1000 km e abbraccerà tre regioni, Calabria, Basilicata e Sicilia, e la ciclovia della Magna Grecia, pista ciclabile progettata dalla regione Calabria per la quale sono stati stanziati 370 milioni di euro. In Sicilia il progetto riguarderà circa 230 km di piste ciclabili, da Messina sino all'estremità meridionale dell'isola. Il governo musumeci ha già spinto sull'acceleratore del progetto della grande ciclovia della Magna Grecia e lo scorso aprile il governo regionale ha sottoscritto il protocollo d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e le Regioni Calabria e Basilicata. L'assessore Marco Falcone ha incontrato oggi le associazioni attive nel campo della mobilità sostenibile, del mondo del ciclismo e dello sport. Sicuramente rappresenta un incremento della infrastrutturazione e in chiave turistica. Le ciclovie della Magna Grecia, questo rapporto sinergico che ci sarà e che c'è già con la Regione Calabria, che è la capofila e con la Regione Basilicata rappresenta una delle più importanti infrastrutturazioni in chiave turistica e in chiave ricettiva che la Sicilia metterà a punto nei prossimi anni. Valorizzeremo i territori, le identità, valorizzeremo i beni culturali, i paesaggistici, quelli di quei territori che sono conosciuti e meno conosciuti. E un modo potrebbe sembrare un'iniziativa per una nicchia di turisti che vuole vedere nella bicicletta, se vogliamo, o in questi percorsi alternativi un momento di svago e divertimento, ma io dico che sarà invece uno strumento per conoscere il territorio e quindi per apprezzarlo. Una riunione operativa aperta a enti territoriali e attori della mobilità per la formulazione delle prime valutazioni sul progetto. Grazie a tutti.